Tutto pronto per la nuova rassegna delle compagnie amatoriali del Cilento, Theam 19, che da anni ormai si svolge presso il Cineteatro La Providenza di Vallo della Lucania. Ad aprirlo, stavolta, sarà uno spettacolo avvincente dal titolo Guerriero, che tratta un tema scottante, ossia la lotta al bullismo e al cyberbullismo. Firmato Biancarosa di Ruocco, un nome autorevole del teatro locale, un'insegnante, un'educatrice che trasmette la passione per la formazione dei giovani attraverso il potente canale comunicativo della recitazione. Il prodotto è interamente composto da persone di Capaccio. Infatti, la compagnia amatoriale per gioco che lo mette in scena è nata due anni fa a Ponte Barizzo e vede la partecipazione di giovani adulti provenienti da tutto il territorio di Capaccio Pestum. La compagnia svolge la sua attività grazie al sostegno fisico e morale di Don Giuseppe VII, anche egli parte attiva. Tutte le iniziative sono promosse poi dall'Associazione Culturale Mineia. Il coro di attori è composto da cinque giovani interpreti, Mariangela Perillo, Ana Camila Brenca, Francesca Papa, Santina Mazza e Nello Gallo, ballerino professionista. Le canzoni verranno eseguite dal vivo e le coreografie sono state create da Nello Gallo. La scrittura del testo e la regia sono state curate da Biancarosa di Ruocco, affiancata da Giovanni Adamo per la parte tecnica. Guerriero si inanella bene in una catena di testi che Biancarosa di Ruocco vuole dedicare a fenomeni di violenza che purtroppo generano ferite profonde in chi le subisce e palesano un parallelo drammatico disagio nel cuore di chi le perpetra. Molto spesso la vera fragilità nelle dinamiche afferenti ad ogni tipo di violenza appartiene al cosiddetto carnefice che a sua volta può essere una vittima, incastrata in un circuito vizioso da cui solo un guerriero, appunto, con la forza dell'intelligenza e dei sentimenti più autentici, può uscirne vincitore e interrompere la triste catena.